Il Parco San Valentino di Pordenone si arricchisce di un bar nuovo ed elegante, il suo nome è Botanico. Il Comune lo ha affidato tramite bando a un giovane imprenditore affiancato da un gruppo di collaboratori coetanei. È un locale che vuole dare un servizio soprattutto ai fruttori del parco, come è stato richiesto dal Comune di Pordenone, ma la nostra volontà, data anche la nostra esperienza di tutte le altre cose connesse degli eventi, andare a cercare di portare molte più persone al parco e di conseguenza nel nostro locale, dalla mattina dalla colazione fino al dopo cena, quindi fino alla chiusura del parco e perché no chiedere al Comune qualche deroga. Il bar si era aperto tutto l'anno, la nuova attività commerciale si aggiunge al recente rinnovo del San Valentino. L'area verde è infatti stata trasformata in un parco inclusivo, pienamente fruibile anche dalle persone disabili in tutte le sue componenti, dai giochi alle sponde del laghetto. Nel vicino quartiere Torre, peraltro, il Comune ha affidato, sempre attraverso bando, anche il bar di Piazza Lozzer, che ha riaperto con una nuova gestione.